Mi sa che io ho detto cominciamo, io sono sempre, ci possono essere tanti problemi, però pulire i presenti non va mai bene. Facciamo una piccola presentazione di Liberi Oltre. Sì, comincia lì. Allora, siamo in attesa di un nostro referente nazionale dell'associazione Liberi Oltre le Lugio, che non conoscete, non è molto nota, ma sta facendo da almeno tre anni. Anche con l'aiuto della professoressa Fornera, che è tra i promotori e i fondatori di questo gruppo di lavoro, che è fatto da studiosi di economia e soprattutto tanti volontari, tanti giovani che in tutta Italia hanno costruito dei gruppi di lavoro con l'intento di approfondire delle tematiche di tipo, diciamo, scientifico e economico, che riescano a superare certe barriere di interesse verso l'opinione pubblica e soprattutto certi filtri che i mezzi di informazione hanno inevitabilmente rispetto alle loro modalità, come quali la comunicazione, diciamo, specialistica viene fatta. Quindi, ad esempio, un tema economico come quello della previdenza, del sistema previdenziale, è uno di questi per i quali ci si sta attendendo molto per far capire, soprattutto alla popolazione giovane, perché ci si rivolge specificamente alla popolazione degli studenti che hanno bisogno di essere informati, con una metodologia che si basa sulla rapporto di dati, di basi dati seri e scientifici, hanno bisogno di valutare concretamente la situazione per potersi fare un'opinione. Ovviamente ci si avvale di persone esperte che hanno una esperienza istituzionale e operativa in questi campi molto solida. Tra quelli c'è ovviamente la professoressa Fornero che l'associazione Liberi Oltri coinvolge, credo, costantemente un po' in giro per l'Italia. Ecco Matteo Fatale. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 E quindi è attraverso questa associazione che la professoressa Fornero, magari anche invece di un ex-ministro, perché sono sicuro che qualcuno di voi sarà poi curioso di farne qualche domanda di questa esperienza che risale poi allontanato 2011, fine 2011, possa anche collegare alcuni ricordi di quell'esperienza rispetto all'attuale assetto normativo che ovviamente ha come lo pianto la legge che porta il suo nome, sebbene negli anni ci sono stati vari tentativi di, chiamiamoli, aggiustamenti, modifiche o annacquamenti che ovviamente hanno incitato molte volenti. In ogni caso il tema è sempre di attualità, soprattutto perché magari potrebbe essere opportuno iniziare a fare questa veloce disamina, considerando che abbiamo un'ora e quindici, più o meno, un'ora e venti di tempo, incluso qui con lo spazio finale per le vostre domande, partendo magari, questo era il mio suggerimento, ma la professoressa è d'accordo, da fare un po' uno stato dell'arte della situazione demografica attuale. La situazione demografica che dalle informazioni che come cittadini riceviamo anche in queste ultime settimane, visto che sono usciti dall'Istat i consuntivi 2022, hanno registrato un saldo netto negativo molto grave nel corso del 2022, ma che va letto soprattutto nella prospettiva di cosa significa questo andamento che si registra purtroppo da alcuni anni rispetto alla prospettiva futura del tasso di natalità nel nostro paese che inevitabilmente va a influenzare quelle che si chiamano per gli specialisti di demografia le coorti anagrafiche che alimentano la popolazione divisa in fasce di età e che purtroppo rappresentate graficamente si vede rappresentano un ampliamento ovviamente delle corti più in là con gli anni e un assottigliamento delle corti anagrafiche della fase iniziale della vita. Questo naturalmente... Adesso io la interrompo, visto che siamo in pochi possiamo fare in maniera un po' interlocutore. Certamente. Perché lui ha cominciato con la demografia e voi direte ma perché la demografia conta rispetto al sistema, lei mette i grafici intanto perché così animiamo un po' questo incontro e cioè perché conta la demografia rispetto al sistema pensionistico? Perché è uno dei pilastri e se la demografia è avversa o non sostenibile il sistema previdenziale non è sostenibile. perché tutti sappiamo, anzi tutti parliamo di sostenibilità spesso senza sapere bene che cosa voglia dire il termine sostenibilità che si può anche esprimere con delle equazioni molto complesse ma in maniera colloquiale vuol dire proprio una cosa che non regge nel tempo, che se non la metti bene su delle fondamenta giuste rischia di crollare. Questo è il punto importante. Allora siccome lei ha le fasce di età da far vedere quello di cui parlava prima perché io ce l'avevo. Non precisamente quello delle porti, ma quello dell'andamento degli anni. Sì, però se lei, io ho dato anche una mia, adesso poi le ridò la parola, ma è solo perché dobbiamo far capire e c'era anche una presentazione qui, no no è già qua, lui deve averla caricata, ma se lei la apre, non so come, non so dove è andato. Una presentazione powerpoint, dove è il ragazzo? Allora lasciamolo perché deve registrare. Sono io dalla regia, adesso ve la mando un minuto solo. La manda alla regia, ecco vedete i mezzi tecnologici della Val d'Aosta ragazzi e quindi facciamo vedere esattamente dove il cambiamento, perché è bene vederlo in maniera visiva questo cambiamento e se lo vediamo in maniera visiva si vede esattamente quello che lui descriveva a parole. Cosa vuol dire? L'assottigliarsi delle, ha detto, corti, ma possiamo anche chiamarle generazioni giovani e invece l'ingrossamento delle generazioni di età media è avanzata. L'ha caricato? Eccolo qua, questo non è, il mio era riforma delle pensioni, non so. Vabbè lui sa e vedete questo e allora il punto che io volevo fare, l'ho interrotto ma ripeto gli do la parola è questo. La gente pensa sempre, ma io mi sono pagato la mia pensione. Non è così, perché il sistema delle pensioni è fatto in modo che c'è tutta la popolazione, la popolazione di un certo momento, supponiamo che voi rappresentiate la popolazione di un certo momento, supponiamo che loro siano i lavoratori, supponiamo, poi vi faccio un ulteriore passo, i lavoratori che sono obbligatoriamente, non è una questione di scelta personale, iscritti all'IMS. Nessuno chiede vuoi iscriverti all'IMS? No, se non lavori in nero ti iscrivi obbligatoriamente all'IMS una volta che lavori, non importa se tu lavori con un contratto a termine o con un contratto a tempo indeterminato, ti iscrivi all'IMS e versi i contributi. L'IMS incassa quei contributi e li usa per pagare le pensioni. Quindi l'IMS da parte non mette niente, anzi vi do una notizia. Quello che entra non basta mai a pagare le pensioni, non basta. E allora lo Stato prende da un'altra parte, magari fa debito e mette la differenza. Questo è il sistema. Allora, quando è stato creato questo sistema delle pensioni, finanziato così, la popolazione italiana era grosso modo così. Se lei poi ce l'ha, era così. Numerosi le classi attive, cioè le persone che hanno l'età di lavoro che convenzionalmente si fissa tra 16 anni e 64-65 e invece i pensionati. Quindi se voi guardate loro vedete che sono tanti rispetto a voi che siete pochi e quindi si può essere generosi. Vada pure avanti, vada pure avanti, 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 fino a che trova il grafico, quello, eccolo lì, avanti ancora, ancora, eccolo. Quella è la popolazione italiana nel 1971 e voi vedete che si parte dal basso, in fondo alla piramide, c'è la popolazione divisa per genere, quindi rosso le donne e blu gli uomini e sono i nuovi nati, quelli che hanno da 0 a 5 anni, poi 5-10, a seconda di come viene diviso, si può anche fare anno per anno e si va su. Man mano che si va su si considerano quelli un po' più anziani, quindi quelli che di anni ne hanno 40, poi 50, poi 60, poi 70, poi 80, in cima, lassù, lassù c'è il vertice che dipende dall'età estrema, quindi a quell'epoca più o meno si era sui 95 qualcuno, forse andava già oltre, ma gli ultracentenari nel 71 praticamente non c'erano, se ce n'erano ce n'era uno. Ecco, quella è del 71, adesso se lei clicca, vedete come è già cambiata la forma della esuppresentazione, ecco, quella è la popolazione italiana del 2011, cosa notate? Un grosso cambiamento, perché alla base che sono le corti nuove, quelle giovani, si è molto ristretta, vuol dire che c'è stato un forte abbassamento di quello che si chiama la fecondità, il tasso di fecondità, quanti bambini per donna e noi eravamo nel 70 circa tre o meno e lì siamo già arrivati a due, cioè una forte diminuzione della fertilità delle donne italiane. E che cosa si vede? Che quelli che hanno un'età più avanzata, che erano quelli che nel grafico prima erano alla base ed erano tanti, sono tutti lì a metà. Quelli che si chiamano i baby boomers, che sono quelli che sono nati, siamo nell'undici, negli anni 60, quando l'Italia era in espansione, la gente aveva aspettative, faceva figli, voleva per i loro figli un futuro migliore, quindi sono nati molti in quegli anni lì. Adesso quegli anni sono tutti già o vicini alla pensione, addirittura in pensione, sono tanti, sono in quella fascia di età lì. E invece quelli che lavorano sono un po' già più ridotti, ok? E vedete anche che il vertice si è alzato, cioè l'età estrema è più alta, lì ci sono già dei centenari e se lei va ancora avanti vede l'altra, che è la fase, ecco, quella è la popolazione del 2061. Voi direte, ma come si fa a sapere? Perché uno dice non sarà così. Adesso vi dico una cosa, che la demografia è una delle scienze che hanno una capacità predittiva superiore, per esempio, a quella dell'economia. Nessuno, cioè si fa del futuribile se si dice come sarà l'economia nel 61, ma la demografia nel 61, e qualcuno fa anche le proiezioni al 2100, e la proiezione più ricorrente per il 2100 per l'Italia, ma già a quel 61 lì, è che noi saremo meno di 40 milioni, oggi siamo 60 milioni. Capite che un calo di un terzo è una dinamica non sostenibile. E lì lo vedete, perché adesso la popolazione in giovane età, in età di lavoro, in età intermedia si riduce rispetto alla numerosità delle cohorti più anziane. E lassù ci sono gli ultracentenari, che oggi sono più di 40 mila in Italia, ultracentenari. Hanno 103, 104, 105 anni e qualcuno anche abbastanza in buona salute. Capite? Questo adesso è come se io sono partita nel 71 dicendo quelli sono quelli che lavorano e voi siete i pensionati. Poi il tempo passa, il tempo passa e arriviamo adesso al momento nostro e questi sono i lavoratori e quelli sono i pensionati. Guardate un po' come è cambiato il mondo. Lo capite che è cambiato? Perché qui adesso abbiamo un numero di lavoratori inferiore e lì c'è un numero di pensionati molto superiore. E allora cosa succede? Si calzano due. O voi accettate di contribuire con un'aliquota molto più alta. Adesso l'aliquota contributiva delle pensioni è 33% per il lavoro dipendente un po' meno per quello autonomo. Ok? Quindi o voi dite portiamo l'aliquota contributiva al 40%, al 45% per pagare le pensioni oppure si va in disavanzo e bisogna trovare altrove i soldi perché non saranno più i contributi sufficienti. Ma portare l'aliquota contributiva al 40-45% non si può. E sapete perché non si può? Perché se no il costo del lavoro complessivo o il salario netto del lavoratore diminuisce così tanto che o il lavoratore non vive o l'impresa non riesce a pagare e chiude i battenti. C'è una ragione di competitività. Cioè se noi facciamo pagare già quella del 33% è sostanzialmente la più alta in Europa. Non so alcuni paesi dell'Europa orientale forse hanno aliquote simili ma noi siamo già rispetto al nucleo diciamo storico dell'Europa noi siamo quelli con l'aliquota contributiva più alta. Quindi aumentare quello vuol dire o se sta sull'impresa cioè se lo paga l'impresa vuol dire che il costo del lavoro aumenta e quindi l'impresa non è più competitiva. Come fai ad essere competitivo? Oppure lo paga il lavoratore ma allora vuol dire che il suo salario netto è troppo basso, già i nostri salari sono bassi. Quindi capite la prima cosa è il sistema previdenziale per essere sostenibile deve poggiare su una demografia che non sia quella caratterizzata da quello che chiamiamo adesso l'inverno demografico. E io vi ho detto che c'è una ragione per questo inverno demografico che è la caduta del tasso di natalità o di fecondità ma ce n'è un'altra che al di là del periodo del covid si vive molto più a lungo perché la piramide che non è più una piramide quella si chiama una piramide invertita o rovesciata cioè stiamo andando così invece di essere così la piramide si è alzata. Quindi abbiamo età molto superiori e questo vuol dire che il numero degli anziani è alto anche perché la vita si allunga. ripeto togliamo il periodo del covid però le proiezioni demografiche dicono che questo allungamento della vita continuerà magari non più con la dinamica che c'è stata nei decenni passati ma continuerà. Grazie a cosa? Intanto alla medicina, al fatto che oggi si sostituisce più o meno tutto dei nostri organi, poi muoiono ancora tante persone giovani purtroppo però la medicina e la chirurgia hanno fatto e la scienza medica hanno fatto veramente molti progressi e poi c'è il fatto che bene o male viviamo in una maniera più sana, più igienica. Adesso gli italiani non fumano quasi più è che quello era un comportamento molto negativo sulla salute e il cibo è molto più più sano anche e siamo molto più attenti e tutte queste cose contano e questo quindi vuol dire una cosa che anche se per qualcuno essere anziano può voler dire essere in una condizione magari di grave disagio perché non sia più autonomia, però questo invecchiamento è un segno di progresso, certo, ma deve essere il sistema reso compatibile con il sistema previdenziale e con la demografia e quindi non è che possiamo cambiare la demografia perché poi la demografia adesso si vuole alzare il tasso di fecondità ma non basta un annuncio oppure anche una misura buona come l'assegno familiare unico è buona la misura ma ci vorrà del tempo per cambiare le abitudini, per cambiare i convincimenti, per cambiare le aspettative e la Francia ci ha messo decenni ma la Francia ha un tasso di fecondità che è ancora più alto, molto più alto del nostro, ancora vicino a 2, la stabilità della popolazione richiede un tasso di fecondità un po' superiore a 2, 2,1 e allora lì vuol dire che il numero dei nati compensa il numero dei morti, se sei sotto e noi siamo a 1,23 se sei sotto la popolazione scende e qui ci sono tutte le previsioni di discesa di cui abbiamo parlato questa è la cosa importante che lei diceva, la demografia è importante ma avete capito il perché e poi c'è l'altra cosa che possiamo aggiungere, lei vuole continuare perché lo facciamo un po' a modo di dialogo siccome Matteo si ferma lì il dialogo lo facciamo noi due io ho scorso anche quest'altra slide che mi sembra di complemento al ragionamento che faceva prima la professoressa perché ci fa vedere l'andamento storico di questa situazione che è un po' più drammatica della visione dell'altra divisa per corti anagrafiche e cioè fa vedere l'andamento del saldo netto diciamo demografico la linea blu è quella dei nati che come vedete da quando sono stati fatti i primi censimenti dello Stato italiano ovviamente ha registrato una progressiva crescita della popolazione il saldo dei nati era sempre più favorevole di quello dei decessi salvo momenti magari critici ovviamente sembra qui durante la prima guerra mondiale però vedete che nella seconda parte del ventesimo secolo questo saldo positivo pur permanente si è assottigliato sempre più fino a una situazione critica che è quella del saldo quasi zero dell'ultima parte del ventesimo secolo e dell'inizio di questo nuovo secolo dove il saldo ha iniziato a invertirsi perché la linea rossa sale e quella blu scende e sono altri dati che numericamente nei dati ISTAT degli ultimi anni mettono in evidenza che il numero dei nati diminuisce e non perché quindi il saldo è negativo perché il numero dei morti aumenta ma è perché diminuisce quello dei nati e quindi il saldo va sempre più a sfavore di questo turnover diciamo cioè chi nasce e chi muore questa inversione la linea rossa con la linea blu che qui si ferma ovviamente ma la prospettiva della previsione al 2061 che abbiamo visto è quella di una ulteriore divaricazione perché di per sé in termini astratti questo saldo potrebbe essere visto positivamente cioè vuol dire come diceva la professoressa stiamo bene viviamo di più viviamo in salute e magari non ci soffermiamo a valutare come dire l'effetto sociale della decisione di fare meno figli però questo si riverbera invece su un altro aspetto che è quello della sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale perché prima ha fatto un'affermazione la professoressa sulla quale io mi voglio soffermare perché negli scambi così fra persone che soprattutto le persone che in questa fase storica sono già andati in pensione magari non lo sono da molto sento dire questa può essere anche un po' una risposta che si può dare interpretando quanto ha detto prima la professoressa ma la pensione è mia e i contributi sono i miei e quindi fra virgolette mi sono guadagnato questo diritto certamente da un punto di vista giuridico la pensione acquisita è ovviamente un diritto ma sul piano dei flussi di cassa io faccio sempre un ragionamento mio padre che oggi ha 85 anni è un po' brutto da dire ma sta vivendo con la pensione che io gli finanzio da lavoratore e purtroppo lui non può dire ma questi sono i soldi dei miei contributi no perché i suoi contributi non ci sono più perché i suoi contributi se ne sono andati quando lui aveva la mia età e lavorava e servivano per alimentare i flussi di cassa mese per mese dell'Inps per pagare le pensioni mese per mese e guardate che quando il tasso di popolazione attiva supera quello delle persone a riposo la situazione è apparentemente stabile oggi credo che ci siano circa 23 milioni di lavoratori e circa 16 milioni di pensioni erogate però attenzione bisogna anche considerare che ce ne sono almeno altre tante che sono però assegni assistenziali da distinguere da quelli previdenziali ma anche essi sono alimentati dai flussi di cassa di contribuzione mese per mese perché questa situazione significa che oggi anche se abbiamo una prevalenza ovviamente di persone che lavorano questa situazione non va a favore vista incrociando l'andamento demografico dei prossimi anni a favore della sostenibilità finanziaria dell'attuale sistema che come si dice è a ripartizione come si dice in inglese pay as you go cioè io pago quello che ricevo in questo momento da questo punto di vista il bilancio dell'Inps non è un bilancio di qualcosa che è in cassa è solamente un gestore di un flusso continuo prende ed ha prende ed ha mese per mese poi vedo che l'attuale presidente qua faccio un po' di attualità per fare qualche commento ultimamente ha riconosciuto una cosa che anni fa non riconosceva e cioè che c'è bisogno di nuovi giovani che vengano avviati al lavoro cioè bisogna alimentare oltre il dato del flusso anagrafico la possibilità di avviare nuovi giovani al lavoro ha detto queste cose guarda caso l'Inps è stata commissariata ieri insieme a Lina in ogni caso adesso io la interrompo nuovamente perché prima abbiamo detto c'è un pilastro nel sistema pensionistico e della demografia ma ce n'è anche un altro che è l'economia perché immaginate come ho detto prima voi siete gli anziani loro sono i giovani adesso immaginate che per esempio tutte le donne che fanno parte della popolazione in età di lavoro loro stiano fuori dal mondo del lavoro cioè aperte virgolette fanno casalinghe le casalinghe immaginate questo allora vuol dire che fanno un nobilissimo lavoro che è la cura della famiglia ma non ricevono uno stipendio e non versano contributi questo vuol dire che la popolazione attiva può essere molto più numerosa della popolazione occupata e quindi questo è un problema perché vengono a mancare dei contributi poi fate ancora un altro passaggio togliamo quindi le persone inattive tipicamente sono ahimè donne togliamo un'altra un'altra quota di queste persone che hanno l'età di lavoro e diciamo ah ma poi ci sono dei giovani che sono lì uomini e donne che non studiano perché se studiano noi non li contiamo come occupabili come persone attive studiano studiano e devono studiare quindi gli studenti per definizione o quasi non fanno parte della popolazione attiva il punto è che non studiano e neanche lavorano quindi sono in un limbo ma non lavorano non ricevono un reddito e non non versano contributi quindi sono un problema anzitutto per se stessi perché è difficile costruirsi un futuro senza essere occupati o a formarsi o a lavorare e ricordatevi che noi abbiamo la stima varia tra due milioni e mezzo e tre ma comunque siamo il primo paese in Europa per numero di giovani consideriamoli fino a 34 anni ci sono persone oltre i 30 anni e sono tante che non lavorano e neanche studiano e questo è un problema sociale enorme adesso il governo ha dato ha preso nell'ultimo provvedimento un come dire darà un sussidio alle imprese nel senso di riduzione degli oneri fiscali e contributivi se assumi uno di questi giovani che si chiamano N.E.E.T è l'acronimo inglese che vuol dire che non lavorano e non studiano e questo e ne togliamo un altro pezzettino quindi prima abbiamo tolto le donne quasi tutte non è vero ma insomma una volta era molto vero poi abbiamo tolto questi che non lavorano poi troviamo anche che c'è un certo numero di persone in età attiva che hanno l'età per l'appunto hanno anche un lavoro ma lavorano in nero l'Istat e l'Inps hanno stimato che noi abbiamo 2,3 milioni 2,3 milioni di persone che hanno un'occupazione in nero e allora qui dobbiamo riprendere un po' di quelle donne che prima abbiamo detto che non lavorano e stanno in famiglia che invece lavorano ma in nero vuol dire che non ricevono non hanno un contratto regolare e non versano i contributi che questo vuol dire che mancano all'Inps oggi i contributi ma mancheranno a loro le pensioni domani 2,3 e di nuovo anche qui siamo tra i primi posti in Europa e allora questo che era un numero numeroso si restringe perché vai a vedere non sono persone che contribuiscono al sistema previdenziale quindi quando succede che il loro numero si restringe e il tasso di occupazione rimane quello che era allora è chiaro che le entrate dell'Inps si assottigliano e come fa l'Inps a pagare? come abbiamo detto prima o fa debito o tassa perché non ci sono altre possibilità adesso voglio dirvi un'altra cosa parlando quindi questo è il pilastro demografico che da noi sta diventando un pilastrino là c'è il pilastro economico e anche questo sta diventando cioè sempre più negli ultimi vent'anni è sempre stato un pilastrino e qui la questione è che noi abbiamo noi il più basso tasso di occupazione formale in Europa cioè noi abbiamo sulla popolazione in età attiva 6 su 100 scusate 60 su 100 6 su 10 lavorano quindi abbiamo un tasso di occupazione che è il 60% sì lei non è convinto? no sì sì ha ragione essere preoccupato adesso io vi dico che per esempio la Francia che in questi giorni sta molto manifestando per la riforma Macron delle pensioni ha un tasso di occupazione che è circa 10 punti più alto del nostro quindi della popolazione in età attiva in Francia il tasso di occupazione è 70% un po' meno ma in Germania è 76 quindi la Germania ha 16% punti percentuali in più e i paesi nordici tipo la Svezia e la Norvegia sono sull'80% delle persone che hanno l'età di lavoro che lavorano allora capite che fa una differenza e lavorano in maniera regolare hanno meno nero la Germania ha molto poco economia sommersa economia nera e quindi questo fa una grossa differenza allora quello che era il pilastro economico quello lì si è ristretto anche lui perché abbiamo un problema di occupazione un problema di lavoro sommerso un problema di inattività di persone che invece dovrebbero essere attive sul mercato del lavoro allora piccole osservazioni anch'io per l'attualità queste sono cose che noi ci trasciniamo da tempo sono problemi di lungo termine non sono problemi che ci ha lasciato il Covid niente fatto era prima così allora la mia opinione è che benvengano i decreti per cambiare le cose nell'immediato ma poi ci vuole una visione di lungo termine e quindi un piano potrebbe essere il PNRR che dica noi vogliamo portare il tasso di occupazione italiano al 65% entro il 2027 che era l'orizzonte del piano nazionale non mi sembra che ci stiamo molto arrivando non mi sembra che sia diventato un obiettivo esplicito di nessuna forza politica aggiungo una cosa perché noi abbiamo il più basso tasso di occupazione pare che nell'ultimo adesso è un po' aumentato dobbiamo dire bene che è aumentato però la Grecia ci ha addirittura superati perché noi in molte classifiche negative siamo sempre davanti alla Grecia la Spagna ormai ci supera cioè come livelli è più basso ma come dinamica ci supera e noi adesso eravamo sempre davanti alla Grecia adesso la Grecia come dinamica non come livelli la Grecia ci sta superando va bene l'altro elemento di quel pilastro lì quello economico è il fatto che i nostri salari sono più bassi allora i contributi si pagano sui salari e quindi paghi il 33% del salario lordo ma il salario lordo in Italia non è sostanzialmente aumentato in media in media parliamo di valori medi negli ultimi vent'anni anzi è stata data molta enfasi al fatto che l'Italia è l'unico paese in Europa che mostra un segno meno negli ultimi vent'anni e quindi il problema è che noi non solo abbiamo un numero di lavoratori inferiore a quello di altri ma abbiamo anche un salario medio inferiore a quello degli altri paesi se prendiamo sempre la Francia il salario medio della Francia è parecchio più alto poi c'è una questione di prezzi noi abbiamo prezzi più bassi questo è vero però i contributi si pagano sui salari e quindi se i salari sono più bassi l'ammontare i contributi viene anch'esso a essere ridotto e se lei va avanti mettiamo io voglio far vedere questa è la popolazione va davanti ecco questo è il problema prima abbiamo detto l'inverno demografico la recessione demografica però poi c'è il problema economico qui c'è un modo per dimostrare il problema economico dell'Italia ed è partite dal partite dal anno adesso non mi ricordo 2008 che è l'anno pre-crisi mettete tutti i paesi che consideriamo sulla stessa linea ok gli diamo tutti siete a cento così vediamo solo quello che è la variazione nel periodo guardate qui questo è la crisi dopo la crisi finanziaria la crisi economica questa cosa qui vedete che tutti scendono si chiama grande recessione è la grande recessione che ha caratterizzato gli anni dal 2008 al 2012 anche un po' 13 poi vedete che l'Italia guardate è quella blu vedete che scende più degli altri qui poi sale meno degli altri questa è la Spagna che nel primo tratto è abbastanza simile a noi però guardate la Spagna come sale dopo e guardate invece l'Italia qui scende poi risale poi scende di nuovo questa è la seconda recessione un po' meno pronunciata della prima perché vedete la caduta lì è molto forte questa è un po' più addolcita e poi l'Italia sale così questa cosa questo grafico che cos'è? il nostro PIL il prodotto l'ordo interno quello che tutti insieme come lavoratori produciamo ok? quindi il nostro fa questa risalita ma adesso adesso non è ancora arrivato al 2008 cioè noi non abbiamo fatto ancora il recupero della posizione del 2008 di prima della crisi finanziaria cosa vuol dire questo? che le risorse qualcuno giornalisticamente dice la coperta è diventata stretta è vero perché l'unico modo per avere di più è quello di produrre di più poi certo si può prendere dagli uni e dare agli altri ma se non si produce di più quella si chiama redistribuzione la redistribuzione non rende il paese più ricco rende qualcuno meno infelice certo e qualcun altro magari anche se gli è portato via un po' più di tasse però però questa è la situazione allora qui c'è il pilastro economico e questa è la debolezza nostra perché noi abbiamo parlato prima di bassa occupazione abbiamo parlato di bassi salari e questo è il risultato complessivo e c'è un terzo elemento che vi voglio dire che di nuovo voi direte ma parliamo di pensioni certo ma se le pensioni che sono rette da pilastri di questo tipo hanno pilastri che mostrano delle crepe e come possono stare in piedi vi dico l'ultima perché i nostri salari sono bassi sono bassi perché noi siamo come paesi poco produttivi c'è un parametro importante che si chiama produttività del lavoro produttività del lavoro immaginate tanto per capire che cos'è che tutti in Italia lavorino ma facciano i parrucchieri gli estetisti non so vabbè facciano professioni tutte molto nobile positive i camerieri di albergo però sono tutte professioni dove la produttività cioè il valore di ciò che si produce è bassilo prendetemi un ingegnere esperto di sicurezza informatica ha un'altra produttività cioè il valore di ciò che una sua ora o giornata di lavoro produce è molto più alto e sarà pagato di più questo sarà brutto ma è vero che non si può pagare un non diciamo cosa perché non voglio offendere nessuno ma insomma un estetista o un cameriere non si può pagare come un ingegnere elettronico allora noi come economia siamo andati spostandoci non è che siamo meno bravi dei tedeschi è che facciamo delle cose meno produttive perché loro sono su settori di produzione molto più tecnologicamente avanzati quindi hanno produttività alta possono pagare salari più alti e quindi le cose vanno meglio noi invece abbiamo perso delle cose per esempio nella chimica nelle industrie informatica e noi lì non ci siamo molto e quindi la nostra produttività media poi siamo bravissimi nella manifattura bravissimi nella moda bravissimi nell'arredamento in queste cose siamo bravi però sono medi settori non sono settori dove la produttività è alta perché sì i capi di alta moda costano cari ma i lavoratori che ci sono dentro magari poi sono anche fuori dall'Italia e comunque non è che hanno un valore aggiunto è il marchio che conta però il valore aggiunto è poi sempre quello di chi confeziona un pantalone che se poi gli metti il marchio Armani allora il valore sale perché il marchio non è pantalone la stessa roba più o meno no? Lo capite? E questi perché io vi dico questo? Perché poi arrivano i politici perché il sistema ve l'ho detto prima è pubblico non è privato non abbiamo le nostre pensioni pagate dalle generali o da Allianz o da un'altra compagnia di assicurazione no le nostre pensioni sono in grandissima parte poi ci sono anche i fondi pensioni e le pensioni private ma sono le nostre pubbliche c'è l'Inps ok? che ci paga le pensioni e l'Inps è un'istituzione pubblica un'agenzia pubblica benissimo allora questo cosa vuol dire? Ho detto prima che nessuno può stare fuori dall'Inps se lavora o lavori in nero oppure se lavori stai dentro l'Inps questo cosa vuol dire anche che le regole pensionistiche sono fissate dalla politica dal Parlamento è il Parlamento che approva le regole ma adesso vi dico se il Parlamento approva delle regole senza tener conto del fatto che il pilastro demografico rischia di crollare che il pilastro economico si assottiglia e loro dicono ma non mi importa niente perché noi parliamo di diritti acquisiti e allora i diritti acquisiti che non guardino né al pilastro demografico né al pilastro economico sapete cosa sono? sono dei diritti non esigibili perché quando vengono a mancare i soldi tu puoi anche avere il diritto ma se non ci sono lo Stato dici mi spiace ma io non le posso pagare questi diritti tuoi con cosa li pago? Ok? E noi nel 2011 eravamo molto vicini a una situazione di quel tipo lì cioè eravamo molto vicini a una situazione che si chiama di default default vuol dire di fallimento del debito pubblico il debito sovrano si dice perché è il debito dello Stato italiano e siamo andati molto vicini perché? Perché il debito è alto e adesso è ancora più alto è lì come una nube che può scatenarsi in una tempesta in modo molto rapido e comunque nell'estate quella nube è diventata sempre più spessa sempre più greve e molte cose e minacciava tempesta e cosa succedeva? Che la politica non riusciva a prendere decisioni non riusciva a prendere decisioni c'erano consigli dei ministri in cui il governo siccome c'erano litigi tra i vari membri tra i vari partiti al governo il governo non faceva le cose le faceva un po' di nascosto Tremonti perché lui conosceva lo stato dei conti pubblici in quella situazione lei mi ha detto perché la storia conta anche in quella situazione il 5 agosto 2011 la banca centrale europea scrive la famosa lettera in cui dice al governo italiano governo Berlusconi dice sostanzialmente questo noi banca centrale siamo disposti a comprare titoli del debito italiano però vogliamo le riforme elencate cosa vuol dire che la banca centrale compra dei titoli quando una istituzione importante come la banca centrale compra dei titoli vuol dire che i titoli vengono comprati dalla banca il prezzo sale perché si fa un acquisto importante il prezzo dei titoli sale quindi quei titoli valgono un po' di più e quindi il tasso di interesse si abbassa quindi era un modo per aiutare il governo italiano e quindi si è detto va bene noi ti aiutiamo ci portiamo dentro dei titoli perché i privati non li volevano mica più tanto i titoli del debito italiano i fondi americani i fondi pensione avevano cominciato a dire stai fuori dal debito italiano perché di quello non mi fido tanto e quindi se nessuno li compra valgono niente se invece una banca centrale li compra in grande quantità tiene su il titolo e tiene giù il tasso di interesse il famoso spread ok quindi la banca centrale ha detto quello però ha detto ci vogliono le riforme e questo il governo lo sapeva benissimo e infatti doveva fare le riforme però non aveva la forza politica e allora cosa hanno pensato chiamiamo un governo tecnico perché il governo tecnico non ha diciamo così non è valutato alle prossime elezioni per definizione è tecnico quindi fa le cose e poi se ne va a casa ok e quindi il governo tecnico doveva fare le riforme questo insisto perché hanno voluto far passare anche la storia del complotto ma per far cadere il governo ma dove era il complotto se loro volevano continuare a governare risolvevano i loro problemi interni di maggioranza oppure chiedevano al presidente napolitano presidente andiamo in elezioni perché il nostro è un paese democratico e se i partiti vogliono le elezioni magari il governo poteva dire ma siete sicuri e però il voto avrebbe portato qualcuno al governo o portato a una situazione di impasse però i partiti hanno detto no sosteniamo un governo tecnico e l'hanno sostenuto anche hanno sostenuto il famoso decreto salva Italia approvato il 20 dicembre 2011 che conteneva la riforma delle pensioni e la riforma delle pensioni era una di quelle che la banca centrale aveva chiesto esplicitamente nella famosa lettera di intenti che il governo aveva sottoscritto perché doveva sottoscriverlo perché se no la banca non comprava i titoli quindi la banca compra i titoli se li mette in portafoglio dei titoli considerati un po' rischiosi se li mette nell'attivo e e quindi il governo poteva trarre un sospiro di sollievo perché se no li comprava quando li compri tu prendi i titoli e dai soldi quindi il governo poteva utilizzare i soldi per fare il pagamento se non c'erano quei soldi che entravano vi dicevo il governo doveva dire signori anche le vostre pensioni io posso pagare quelle più più basse ma non le pago tutte oppure io non vi restituisco tutti i soldi oppure vi devo aumentare la tassazione in maniera forte perché non c'è cassa quella era la situazione e quello vuol dire le riforme e le riforme sono fatte per cercare di rendere intanto correggere il sistema vedete si dice allungamento dell'età pensionabile mio diritto andare a una certa età a 41 anni sì ma se noi abbiamo il più basso tasso di occupazione e tutte le relazioni delle istituzioni internazionali negli anni precedenti e lasciatemelo dire anche tutti i governi di destra che ce l'avevano sempre scusate i giornali di destra che ce l'avevano sempre con le pensioni di anzianità sempre pieni di paginate che dicevano dovete togliere le pensioni di anzianità perché pensavano di fare un dispetto alla sinistra quando un governo le toglie ah scandalo hanno aumentato l'età di pensionamento e quindi hanno certo chiesto sacrifici ai lavoratori però trovare una soluzione loro no eh è troppo comodo e quindi questo se tu allunghi l'età pensionabile vuol dire che aumenti il numero di lavoratori in età non più giovane aumenti il numero dei lavoratori adesso io so che voi avete un'obiezione e l'obiezione ma se facciamo lavorare i lavoratori giovani scusate i lavoratori meno giovani non c'è spazio per i lavoratori giovani è così che mi dite? perché è così che è la vulgata ma io vi dico non è così e allora adesso vi faccio vedere se lei va avanti di questa presentazione che dopo le lascio vada vada questa è l'occupazione queste sono le retribuzioni andiamo avanti aspetti ecco allora vada indietro di uno ecco ecco adesso questo è un grafico che bisognerebbe spiegare in maniera un po' però la cosa che vi ho detto prima se si allunga l'età pensionabile si rende il lavoro dei giovani meno meno facile quindi ci sono meno giovani io vi dico questo che uno questa argomentazione è sempre stata usata nei confronti delle donne perché se le donne vogliono lavorare si diceva portano via il lavoro un uomo non è vero nei paesi in cui le donne lavorano il tasso di occupazione degli uomini non è più basso non solo ma negli stessi paesi in quegli stessi paesi che sono la Svezia la Norvegia la Danimarca tutti i paesi nordici e la Germania ma anche la Francia succede che quando aumenta l'occupazione nell'età anziane aumenta anche vedete che il segno di questa relazione è positivo qui c'è l'occupazione degli anziani e se ti muovi verso destra vuol dire che aumenta e vedete che la mettiamo in relazione con la variazione dell'occupazione dei giovani e aumenta anche quella vuol dire che non è che se tu aumenti l'occupazione tra gli anziani quella tra i giovani scende non è inversa la cosa tieni gli anziani al lavoro e i giovani entrano meno no e allora questo cosa vuol dire che c'è un modo di far funzionare il lavoro che fa sì che tutti quelli che sono in età lavorativa o quasi lavorino questo è il punto quando tu hai un'occupazione al 70 75 80% non vale questo principio di esclusione che è solo una forma mentis nostra sbagliata ma non c'è niente in economia che regga un'ipotesi di questo tipo dal punto di vista teorico e non c'è niente nei dati e vi dico in Italia qual è secondo voi la parte d'Italia dove il tasso di occupazione più alto in realtà sono le province autonome di Trento e se prende tutta la Lombardia sono le province autonome di Trento e Bolzano e che cosa si vede in queste province che hanno una tradizione di politiche attive molto importanti cosa si vede che il tasso di occupazione dei giovani è uguale a quello delle altre classi di età e la disoccupazione tra i giovani non è molto più alta la disoccupazione tra i giovani in Italia è adesso ancora il 20% e se vai nel meridione arriva al 35 36 seconda delle regioni in Calabria e Campania anche di più mentre quella delle altre classi di età è nel meridione siamo sui 12 13 anche 14 quella italiana complessiva è 8 ma vuol dire che dove il mercato del lavoro funziona l'occupazione c'è per i giovani e per i meno giovani e per i lavoratori che hanno un'età più avanzata ma sono ancora in grado di lavorare e invece noi pensiamo sempre a questo tra l'altro aggiungo che c'è una cosa che per esempio uno studio che Banca d'Italia ha fatto non so se qui l'ho citato uno studio che va davanti questo è la stessa cosa ecco il giudizio della Banca d'Italia quindi la Banca d'Italia è allora allungamento dei lavoratori più anziani è corrisposto l'incremento di quelli di età più giovani a supporto dell'ipotesi di complementarità tra le due classi di età cioè se si lavora quando il mondo del lavoro funziona lavorano i giovani lavorano i meno giovani lavorano le donne e invece quando non funziona arriva sempre qualcuno a dire no perché se lavori tu porti via il posto a me come se il lavoro il mondo del lavoro fosse un autobus e quando è pieno perché entri qualcuno bisogna che scenda qualcun altro non è un autobus è qualcosa che può funzionare meglio e in molti paesi funziona molto meglio che da noi ma bisogna cambiare mentalità ecco allora abbiamo detto cose importanti il sistema pensionistico non è una cosa con cui i politici possono giocare per guadagnare voti perché questo è quello che spesso fanno promettere senza tenere conto del pilastro demografico e neanche del pilastro economico però queste promesse poi arrivano al dunque e quando si parla di diritti acquisiti lo so che la cosa è antipatica ma bisogna domandare chi è che paga per questi diritti acquisiti e se chi paga per quei diritti acquisiti è più povero di chi invece ne beneficia dal punto di vista del criterio della giustizia sociale che è un criterio che sta nella nostra costituzione il fondamento del diritto viene un po' perché se io dico che ho diritto ad avere una pensione che i politici mi hanno promesso in termini generosi e che io non mi sono pagata se non in parte quando io dico no io voglio che questo mi sia pagato perché i politici me l'hanno promesso allora se me lo paga lei che è giovane e che sta peggio di me lei può dire ma le sembra giusto questo quale criterio di giustizia rispecchia questo criterio secondo il quale lui mi deve a parte il fatto che lui ha una scelta estrema ma ha una scelta che molti oggi giovani compiono quello di dire sapete cosa io me ne vado in un altro paese e in un altro paese cerco quelle opportunità che qui non trovo e quindi molti giovani perché completiamo quel quadro lì dell'economia e della demografia oggi molti giovani emigrano dall'Italia per cercare all'estero e se trovano lavoro pagano i contributi all'estero e non li pagano perché non sono iscritti all'IMSS e quindi un altro pezzettino di solidità del sistema che se ne va quindi bisogna indurre i giovani a stare qui ma non compromesse vacue di garanzie pensionistiche esegibili tra 40 anni che sono scritte sulla sabbia del Sahara no dicendo beh adesso tu bisogna che trovi un bel lavoro qui da noi con un bel contratto con una buona retribuzione e che ti iscrivi all'IMSS e paghi i tuoi contributi e così contribuisci oltre che al tuo benessere alla solidità del sistema pensionistico ma non è esattamente quello che i politici dicono e fanno capito? allora terza colonna sono le regole pensionistiche se i politici stabiliscono le regole pensionistiche sulla base delle loro preferenze come dire ambizioni elettorali le regole non sono sostenibili perché non sono coerenti e quindi qualcosa scappa e qualcosa scappa vuol dire che il sistema genera troppi pochi contributi rispetto alle pensioni che paga e che quindi bisogna attingere da altre parti ma altre parti l'ho detto prima possono essere solo o tassare o fare debito però il debito è già molto grande lassù che sta sulla nostra testa e quindi se aumentiamo ancora il debito possiamo avere delle difficoltà e adesso chiudo perché così poi chiudiamo con un commento a una cosa che c'è nel decreto e che in generale è stato accolto positivamente però è una cosa a cui io sto pensando in questi giorni però dobbiamo riflettere su questo si chiama cuneo fiscale intervento sul cuneo fiscale ciò cosa ha fatto il governo ha detto fino è una cosa che era già anche stata fatta da Draghi e prima di Draghi anche da Conte 2 sì dal Conte 2 e comunque che cosa si dice per rendere i salari fino a 35.000 euro lordi l'anno siccome le imprese in molti casi fanno fatica ad aumentare i salari gli togliamo un po' di onere fiscale ma l'onere fiscale è di due tipi o sono le imposte dirette o sono i contributi allora il governo dice gli togliamo punti di contribuzione quel 33 portiamo via qualche punto ma siccome sono contributi che servono per la pensione se non succede niente il lavoratore si troverà ad avere una pensione più bassa perché ha pagato meno contributi e invece lo Stato dice giustamente no tu non li versi ma io li metto per te li metto per te quindi i contributi a carico a favore del lavoratore per la pensione non scendono quelli che servono a calcolare la pensione ma invece scendono quelli che sono tolti dalla busta paga del lavoratore questo va bene però è un cambiamento importante nel sistema pensionistico perché noi stiamo passando da un sistema pensionistico finanziato con la contribuzione a un sistema che misura larga e finanziato con cosa? con la tassazione? magari un po' degli stessi lavoratori con il debito che però va a scapito di nuovo delle generazioni future e questo è un passaggio delicato anche vedete che adesso tutti dicono a misura va bene ma bisogna renderla strutturale rendere strutturale vuol dire che devi renderla permanente vuol dire che devi questo divario tra l'aliquota versata e quella che serve a calcolare le pensioni diventa permanente e lo paga lo Stato noi avevamo fatto nella riforma il passaggio al metodo contributivo e questo è una demolizione del metodo contributivo quindi mentre alzare i salari netti bassi è giusto la domanda che ci dobbiamo porre è perché la nostra economia non riesce a pagare dei salari medi più alti perché fino a quando noi ci limitiamo a dire che li alziamo tagliando le tasse tagliando i contributi facendo debito vuol dire che aiutiamo le generazioni presenti a scapito di quelle future di nuovo e invece la grossa domanda nostra è come facciamo a fare in modo che quei 35.000 diventino 40.000 42.000 45.000 supportati dalla produttività supportati dal valore della produzione da quello che si chiama il valore aggiunto perché noi non ci riusciamo e allora lì torniamo e chiudo la storia alla debolezza strutturale del nostro paese che noi non riusciamo a scrollarci di dosso da 25 anni o giù di lì questa è la storia vedete che è complessa che bisogna non guardare soltanto le cose dell'oggi perché il futuro è molto incerto intanto sta cambiando tremendamente anche tutto il lavoro e noi siamo qui a discutere di due punti mezzo punto senza neanche vedere le conseguenze in termini di medio periodo almeno e stiamo a discutere di cosa fare dei progetti del PNR che era una grande occasione per il paese ma mi sembra che sia diventato un'occasione di nuovo di polemica tra le forze politiche tra gli enti locali e così via morale è una storia che non ha per ora un lieto fine speriamo che le nubi all'orizzonte si diradino anche se abbiamo bisogno di pioggia ma non di allagamenti ovviamente e quindi io spero questo soprattutto per quelli giovani perché gli altri comunque le loro chance di vita le hanno avute mi fermo qui ho già parlato anche troppo lascio a lei lasciamo uno spazio all'intervento a Matteo Fatale poi magari se c'è qualche domanda facciamo girare il microfono si è giusto aggiungo due cose a ciò che ha detto Elsa quanto tempo abbiamo? abbiamo già a fare quindi allora io vorrei ti dire che poi ho un'altra cosa stasera sarò brevissimo allora vorrei integrare un po' ciò che ha detto Elsa su quel grafico di prima che abbiamo visto possiamo riformularlo in tutti i modi che vogliamo ma dice sempre la stessa cosa e cioè più è lunga la durata media della vita lavorativa quindi per più anni si lavora e più alto il tasso di occupazione in area oxe quindi quello che come ha già smentito Elsa se un lavoratore più anziano va in pensione allora automaticamente un giovane prende il suo posto è falso soprattutto perché l'abbiamo visto con quota 100 con quota 100 ogni tre lavoratori che sono andati in pensione un giovane è entrato questo perché perché non è automatica la cosa semplicemente i lavoratori più anziani hanno un'esperienza e un tipo di occupazione è diverso da chi entra nel mercato del lavoro e spesso le due cose vanno invece a braccetto cioè i lavoratori più anziani tendono a lavorare meglio se ci sono più lavoratori giovani e viceversa per questo quindi in area oxe l'Italia non so se il paese con meno o il penultimo comunque sia l'ultimo posto o il penultimo con durata media della vita lavorativa noi siamo quelli che lavoriamo di meno praticamente quindi tutte le vignette che ci dimostrano come quelli un pigri un po' hanno un minimo di verità diciamolo infatti parlo proprio della politica quando Elsa ha detto che i due pilastri comunque sia sono molto importanti intricati anche dal terzo delle riforme i pilastri quando poi la politica deve costruire il bilancio si uniscono tutti insieme riprendo il governo giallo-verde quando è che c'era che è 2019 o 2020? no 2020 non c'era più c'era il rosso ok quindi 2019 2019 ok il DEF del 2019 il documento di economia e finanza del 2019 cosa diceva? che le attuali proiezioni tutte le proiezioni di cui parlavamo in ambito economico che comunque sia hanno meno validità rispetto a quelle demografiche le attuali proiezioni che già erano molto molto drammatiche erano valide al sussistere di una serie di fattori uno da qui al 2040 un tasso di fecondità vado a memoria un tasso di fecondità che sale a 1,65 dall'1,23-25 che abbiamo adesso cosa già un po' impensabile possiamo dirlo di alzarlo di così tanto in 15 anni secondo un'immigrazione netta di 160.000 unità immigrazione netta significa più annue esatto 160.000 unità annue e un tasso di produttività che è la cosa più importante di cui parlavamo prima che sale all'1,5% l'anno quindi se questi tre fattori tutti insieme ragionano questi obiettivi allora le proiezioni avevano senso vi rendete conto che tutte e tre queste proiezioni sono molto molto fiduciose e divertente perché lo stesso governo giallo-verde quindi la Lega e i 5 Stelle hanno firmato dicendo abbiamo bisogno di più immigrati abbiamo bisogno di più immigrati perché il grafico che c'era anche prima sul il tasso di fecondità delle madri straniere era molto più alto di quello italiano era la linea verde praticamente questo perché diciamo i stranieri mediamente di prima e seconda generazione hanno un tasso di fecondità più alto e un tasso di occupazione più alto chiaramente data l'età media comunque minore di quella italiana poi dalla terza generazione più o meno si adeguano ai nativi italiani quindi sono presente come noi però il fatto dell'immigrazione effettivamente ha molto senso se la guardiamo in quest'ottica e per questo la politica mi fa ridere che proprio aveva firmato che avevamo bisogno di tutto ciò poi è vero anche che dal 2045 circa inizia a scendere il costo delle pensioni sul PIL perché piano piano tutte le pensioni saranno contributive ma anche lì queste proiezioni sono molto fiduciose a mio parere anche Marattina ne ha parlato qualche giorno qualche settimana fa queste proiezioni continuano a essere molto fiduciose e il tasso di il costo delle pensioni diciamo il costo totale delle pensioni sul PIL continuerà a salire ancora per tanti anni e può diventare ancora più drammatica questa situazione se non andiamo a incidere sulla produttività e sull'occupazione quindi è proprio questo il ruolo questi pilastri che si uniscono quando entra in gioco la politica ma se la politica non gioca su una serie di riforme adeguate per sempre occupazione lavoro occupazione femminile perché quando è che adesso in questo momento sale il tasso di fecondità quando le donne lavorano di più se le donne lavorano di più sono più in carriera hanno più possibilità rispetto a quelle attuali quindi le stesse possibilità degli uomini il tasso di fecondità sale è ovvio può salire fino a un tot perché ad esempio la Francia ha un tasso del 2 grazie proprio all'immigrazione ma anche lì se guardiamo i nativi comunque non si discosta sono troppissimo da noi quindi comunque sia è un quello che io chiamo l'inferno in realtà l'inferno demografico non è che si scappa da lì dobbiamo soltanto essere coraggiosi di fare quello che dobbiamo fare di guardarci in faccia dicendo ragazzi non vogliamo pagare più tasse che poi queste tasse sono sempre questi incrementi di tasse difficilmente li vediamo vedete quindi per questo non ci pesano così tanto però dobbiamo guardarci in faccia e dirci abbiamo bisogno di lavorare abbiamo bisogno di prendere delle scelte un po' sanguinose che possono sembrarci anche sanguinose perché ricordo Valerio Malvezzi scusate che parlo tanto ma un po' di cose Valerio Malvezzi quello di Bio Blu che non so se qualcuno di me lo conosce spero di no comunque lui nel suo libro che mi è capitato tra le mani per caso in libreria parlava del fatto che il tasso di fecondità italiano è iniziato a scendere di brutto quando? quando abbiamo iniziato a pagare tanti interessi sul debito quindi questo ovviamente colpa del divorzio del Banca d'Italia tesoro dell'81 colpa dell'Europa quindi pagando interessi sul debito ci sono meno soldi per le famiglie e le donne fanno meno figli poi ha fatto una specie di correlazione spuria imbarazzante quindi dobbiamo uno guardarci in faccia a fare le riforme che necessitano farci delle domande scomode e darci delle risposte ancora più scomode e secondo essere impermeabili a questi ciarlatani io sono orgoglioso del fatto che Liberi Oltre ci sta provando Liberi Oltre ci sta provando in questo nell'essere un ombrello un ombrello per tutti noi contro la pioggia di diciamolo la pioggia di populismo la pioggia di populismo che ci viene contro in questi tempi adesso lascio parola a voi prima di chiudere di concludere magari se avete delle domande vi grazie ma io adesso sto un po' seduta volevo volevo fare una domanda facendo una piccola una breve premessa dicendo che personalmente sono soddisfatto della sua esposizione di una materia così complessa che sarebbe necessario non soltanto un'ora un'ora e mezza per per discuterne ma perché è superficiale un ragionamento di questo tipo perché ogni argomento sull'argomento generale occorrerebbe approfondire il tutto ma anche quello storico quindi voglio dire sono personalmente sono soddisfatto di essere intervenuto e ho cercato di capire anche la sua esposizione rispetto al sistema pensionistico il discorso dei due pilastri quello economico quello demografico e via dicendo e anche le anomalie del sistema che in pratica portano ad avere meno contribuzione a evidenziare la carenza economica della questione aggiungere solo una piccola cosa c'è quella dei giovani e purtroppo anche negli ultimi decreti che stanno facendo sul discorso dei giovani si va sempre si va aumentare il precariato e quindi col precariato oltre alle diseguaglianze che si aumentano in pratica sono ancora più carente voglio dire le risorse da mettere nel sistema pensionistico quindi voglio dire la mia domanda questa è solo una premessa la mia domanda è questa ovviamente è una domanda che non vuole dare degli spunti per trovare una soluzione che non ne ho rispetto al sistema pensionistico perché ci sono una serie non soltanto i due pilastri ci sono una serie di elementi che occorrerebbe intervenire per poterlo modificare però rispetto alla previdenza e l'assistenza che bisognerebbe dividerli perché è un unico ente l'Inps che in pratica fa assistenza e previdenza e quindi non paga soltanto il discorso dei contributi che quelli che voglio dire per le pensioni pagano eccetera ma ha una vasta area di pagamento se non si divide come mai non si cerca di dividere questa parte tra assistenza e previdenza che in pratica andrebbe in una direzione più giusta insomma e glielo dico perché è già stata fatta la separazione adesso le faccio proprio l'esempio del decreto di questi giorni noi abbiamo lo Stato che ha deciso di ridurre l'aliquota contributiva di lavoratori chiamiamoli con salari modesti cos'è quella assistenza o previdenza è assistenza ma sta necessariamente dentro la spesa pensionistica è assistenza perché lo Stato paga finanziandosi in altro modo una parte delle pensioni pagherà in futuro una parte delle pensioni di persone che oggi hanno un salario basso quindi è una forma di assistenza ma non ha senso scorporarla perché è la spesa previdenziale le faccio l'altra domanda prendiamo le pensioni dei coltivatori diretti le pensioni dei coltivatori diretti sono in generale più alte dei contributi che hanno pagato i coltivatori diretti hanno pagato commercianti anche i lavoratori autonomi abbastanza ricevono pensioni che sono superiori al valore calcolato bene dei contributi che hanno versato e i cali sono due o quella differenza viene chiamata privilegio oppure viene chiamata assistenza ma è spesa previdenziale quindi l'Europa non ci sta su queste cose perché dite voi dovreste pagarle coi contributi periodicamente non ce la fate se io dico che la pensione di redditi alti dove c'era il divario tra quello che si riceve e quello che si è pagato molte professioni e comunque la formula che c'era prima favoriva i redditi alti allora quella differenza lì non è assistenza quella è privilegio e la formula a cui siamo passati si chiama contributiva elimina anche i privilegi e infatti per esempio io sono stata molto attaccata da categorie non voglio menzionarne a cui comunque abbiamo tolto delle cose perché avevano dei privilegi ma se si tratta di redditi bassi tu dici va bene gli diamo qualcosa ed è assistenza ma perché dobbiamo separarla che senso ha sono spesa per pensioni noi dobbiamo riconoscere tutto quello che è contributo se il contributo non c'è perché sei disoccupato e lo paga lo Stato è assistenza però non ha senso scorporarle e dire che noi spendiamo poco per le pensioni perché il resto è assistenza perché un sistema pubblico di pensioni non è come le generali le generali se tu paghi prendi quello che il corrispondente di ciò che hai versato perché le generali normalmente non fanno assistenza non hanno solidarietà se non quella degli assicurati interna al gruppo degli assicurati ma lo Stato deve anche in un sistema pensionistico aiutare chi sta peggio il metodo contributivo aiuta a rendere trasparente questo intervento pubblico ma non ha senso separarlo guardi non so se lei è un sindacalista ma questa è una battaglia dei sindacati ma me lo lasci dire in maniera sincera lo sanno anche loro che non è perché la separazione cioè se io dico che faccio un intervento per gli orfani quello non c'entra niente con le pensioni allora togliamolo se dico che se c'è un'impresa che ha avuto una storia particolare e abbiamo mandato quello va bene togliamolo alcune cose togliamolo ma sono state tolte e lo Stato tutti gli anni mette tanti soldi in qualcosa che va a pagare una forma di assistenza interna al sistema pensionistico ma è un'illusione pensare che quella separazione lì aggiusti il sistema previdenziale non è così mentre invece le forme cioè diciamo tranquillamente quello che lo Stato fa con la fiscalizzazione degli oneri contributivi in questo decreto e nei precedenti e che la gente vuol rendere strutturale vuol dire di fatto una forma assistenziale ma per pagare le pensioni per pagare contributi che i lavoratori non riescono a pagare se vogliono avere una pensione una retribuzione netta adeguata questo è il punto ho fatto tante discussioni anche col sindacato su questo ed è un loro chiodo fisso ma la cassa integrazione beh ma non è nella spesa pensionistica la cassa integrazione è finanziata da fondi da fondi propri sono fondi che versano lavoratori e imprese e poi quello allora quello che una delle cose che io avevo fatto nella riforma del lavoro è di introdurre l'aspi prima non c'era un assegno per noi l'abbiamo chiamato assicurazione sociale per l'impiego poi Renzi l'ha chiamata nuova assicurazione sociale per l'impiego va bene si cambiano sempre i nomi in Italia e ci ha messo anche più soldi ma io per ottenere quelli che ho dovuto litigare con Mario Monti che non è per ottenere quei pochi che mi sono serviti per introdurre l'aspi l'aspi assicurazione sociale per l'impiego quella è assistenza quella è un'altra forma di welfare ed è pagata con fondi pubblici e quindi noi abbiamo capitoli del welfare previdenza che però dentro ha anche per esempio il pagamento di contributi per la disoccupazione contributi non l'assegno che serve al disoccupato per mantenere uno standard di vita adeguato capisce? dica poi basta è molto interessante però a me piacerebbe capire come evolve poi tutto il sistema e quindi le chiedo se ha per caso un grafico in cui si vedono i contributi in funzione del tempo i contributi pagati dai lavoratori quelli versati dallo Stato alle pensioni e vedere come cambia nel tempo e quant'è la differenza mi piacerebbe vedere lo posso cercare non so se sia proprio un'informazione allora posso dirle che siccome il sistema previdenziale è in deficit strutturale da decenni lo Stato o faceva le riforme per ridurre il deficit oppure prendeva soldi e li metteva lì da altre fonti quindi vuol dire che l'intervento pubblico nel finanziamento della previdenza ma ripeto quando dico intervento pubblico che sono due o sono soldi che vengono dalla tassazione generale e quindi li pagano tutti i contribuenti oppure sono soldi presi a prestito e quindi stanno sul debito che va invece sulle generazioni più giovani ecco questo c'è in generale quello che noi sappiamo è che la spesa pensionistica che adesso è sul 15% del PIL sale ancora fino al 2035 ma perché sale? perché c'è quella massa di pensionati che arrivano cioè quella famosa ingrossamento sono tutti lì o già pensionati o stanno arrivando e gli altri si riducono quindi la spesa diciamo che il modo per aumentare la pensione è indurre le persone a lavorare di più perché non possiamo sistematicamente dire ai pensionati vi diamo più di quanto avete pagato perché questo da qualche parte deve venire quindi il metodo contributivo dice tu ricevi quello che paghi e se lavori di più ricevi di più perché hai lavorato di più ma se vuoi andare in pensione prima ricevi di meno questa è la formula adottata che però deve prevedere e questo deve essere chiaro le forme di solidarietà vuol dire se sei disoccupato involontario lo Stato versa per te i contributi oppure se hai un salario troppo basso io avrei preferito una riduzione della tassazione la riduzione dei contributi messi a carico dello Stato confonde le idee quindi intorbida il sistema previdenziale va nella direzione opposta a quella che lei diceva di separare assistenza e previdenza perché noi sappiamo che il sistema pensionistico ha delle forme assistenziali in tutto il percorso lavorativo quando il lavoratore non riesce a contribuire perché è disoccupato o perché ha una forma di invalidità anche solo temporanea o così via le deve fare queste cose ma la spesa salirà al 16 e mezzo anche 17 perché poi le misure di controriforma la spesa l'aumentano e poi tende a scendere perché le riforme avranno un po' la meglio sull'invecchiamento e l'invecchiamento comunque o trova una soluzione facendo nascere più bambini oppure ci estinguiamo come popolazione quello noi non lo vediamo però insomma non è sostenibile quella transizione demografica percentuale di spesa pensionistica sul prodotto interno lordo e siamo il paese che ha la spesa più alta e lei dice perché abbiamo l'assistenza e io le dico non è così a meno di dire che le pensioni degli artigiani dei coltivatori diretti sono assistenza però è difficile dire perché sono tutte superiori ai contributi versati e quindi quella differenza lì guardi ci sono solo due modi o è un privilegio se a qualcuno dai di più di quanto ha versato ma è ricco ma perché gli devi dare di più quello si chiama privilegio e il metodo contributivo lo toglie se invece hai versato di meno ma sei una persona bisognosa è un'assistenza dentro il sistema pensionistico e va tenuta lì altrimenti si capisce molto meno tutto la trasparenza del sistema è molto importante perché altrimenti dove non c'è trasparenza ci sono privilegi volevo ringraziare della sua presenza e volevo fare i complimenti per per quanto detto fino ad fino adesso volevo allargare un po' il discorso senza entrare nello specifico del numeri andare al di là del numeri lei ha detto che è la politica che decide e di conseguenza siamo noi che decidiamo la politica e qui nella sala sono tutti comunque un po' attraverso me perché sono totalmente fuori dal contesto ma sono tutti avvezzi a discorsi o sul lavoro come i sindacalisti o economici o che stanno studiando l'economia io sono infermiere pediatrico pediatrico sì una professione molto importante sì è molto anche molto richiesta all'estero non apriamo non apriamo il capitolo sanità perché quello è un capitolo molto problematico la mia domanda è questa visto che noi ci formiamo nelle scuole soprattutto oltre che a livello genitoriale nella famiglia eccetera quanto è importante l'educazione all'economia in tutto questo contesto sono sono una delle più accanite se vogliamo sostenitrici dell'educazione finanziaria di base ci ho lavorato ho scritto abbiamo fatto dei progetti finanziati dall'Europa e abbiamo in particolare adesso un progetto che è carino perché è proprio sui giovani che è una specie di monopoli quindi un gioco un gioco da tavola che insegna l'educazione finanziaria ed è costruito sul ciclo di vita di una persona che abbiamo rappresentato come devi decidere se continuare a studiare o cercare un lavoro e quali sono le cose che devi conoscere poi vai avanti perché prima o poi il lavoro lo devi trovare vai avanti hai un lavoro hai un reddito quanto risparmi e quanto consumi e se hai risparmiato dove metti i tuoi risparmi poi vai avanti ancora un po' sperando che uno riesca a formarsi una famiglia devi decidere compro casa o affitto e quindi anche lì c'è una decisione importante poi vai avanti ancora e devi decidere vado in pensione o continuo a lavorare e noi facciamo non il giro dell'occa ma il giro della vita con delle domande che danno punti è un progetto finanziato un progetto Erasmus finanziato dall'Europa un piccolo finanziamento siamo cinque paesi cioè noi la Francia con l'università Paris-Dauphin la Finlandia Varsavia la scuola di economia di Varsavia e poi abbiamo l'Olanda con l'università di Tilburg abbiamo costruito questo gioco fra l'altro con una start-up di Palermo molto brava nella creazione dei giochi noi gli abbiamo dato i materiali abbiamo formulato le domande ci sono dei librettini che spiegano i concetti e tutto è visibile sul sito il sito è quello del Carlo Albea adesso non non abbiamo una stampa faremo una stampa di questo gioco ma si può andare a provare perché allora sito carloalberto.org che è una delle nostre istituzioni di ricerca di Torino e dentro c'è questo progetto che si chiama Angle Angle all'inglese quindi Angle scritto Angle e il progetto Angle perché l'abbiamo coordinato noi a Torino ed è un progetto per poi la cosa bella è che abbiamo cercato di pensare a un giovane europeo che non è facile perché per esempio il modo di essere giovani in Finlandia è molto diverso dal modo di essere giovani in Italia e anche in Polonia è diverso in Olanda di nuovo non si pongono il problema o studi o lavori non c'è la terza via non c'è e quindi è carino credo prossimo autunno inverno serata di pioggia uno può mettersi lì e giocare con questo gioco potete usarlo anche voi ecco va bene comunque complimenti per invece la sua professione perché oggi di medici e infermieri c'è bisogno e gli ospedali sono purtroppo che erano un nostro orgoglio purtroppo stanno soffrendo molto ecco bene direi che siamo arrivati alla fine ringraziamo la professoressa Fornero con un applauso grazie e ringraziamo tutti coloro che hanno voluto partecipare naturalmente invitiamo anche a seguire il sito di Liberi Oltre come occasione di informazione perché ha delle pagine interne di approfondimenti tecnici di ricerca diciamo scientifica su varie materie quindi è un ottimo spunto non solo per approfondire i temi di questa sera ma tante altre cose che riguardano l'economia la finanza la società in generale grazie buona serata a tutti mi raccomando associatevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo a giugno il 17-18 giugno a Milano per l'evento nazionale grazie a tutti per l'evento nazionale per l'evento nazionale per l'evento nazionale grazie a tutti per l'evento nazionale